Il tema, quello storico che era sulle masse e quello di Aldo Moro e De Gasperi erano comunque tracce che aleggiavano insomma, quindi bene bene. Da Moro a Bassani passando per la Costituzione di cui ricorrono i 70 anni, queste alcune delle tracce della prima prova che parzialmente hanno rispettato le previsioni dei maturandi. Alle 8.30 questa mattina sono iniziati gli esami di maturità. Studenti e studentesse, oltre 2.800, quelli a retini, hanno cominciato come sempre con la prova di italiano. Per essere la prima dura, dura, però si devono fare, si fanno. Per l'analisi del testo è stato scelto lo scrittore Giorgio Bassani con un brano del Giardino dei Finzi Contini, incentrato sulle persecuzioni razziali. Il principio dell'uguaglianza nella Costituzione italiana è la cooperazione internazionale per il tema storico, con un focus sugli statisti Alcide De Gasperi e Aldo Moro. L'amore e la solitudine della poetessa Alda Merini per la prova di arte ed infine creatività e la dote umana dell'immaginazione, le masse, la propaganda e il dibattito bioetico sulla clonazione, le tracce del saggio breve. Io ho scelto sempre il saggio breve, la tipologia storico-politica. Volevano far riflettere sulle tematiche attuali, su come viene utilizzata la propaganda del timore e su come viene utilizzata la massificazione nell'area della globalizzazione. Ho scelto il saggio breve di argomento artistico-letterario, quello sulla solitudine. Poi esclusione perché c'era Pirandello e mi piaceva molto. Domani sarà invece il turno della seconda prova scritta ed infine il 25 luglio della terza prova. Pesante ma non troppo, è anche una sorta di liberazione.